Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dopo aver detto addio alla Rai e alla conduzione di Sanremo, Amadeus fa il suo ingresso su 9. A settembre lo vedremo non solo alla guida dei soliti ignoti, ma anche come direttore artistico di un nuovo show musicale, Suzuki Music Party. E non è finita qui. Nei prossimi mesi l'ex conduttore di Sanremo porterà su 9 in prima serata il celebre format della corrida. Il nuovo spettacolo dovrebbe debuttare il 22 settembre e sarà trasmesso dall'Allianz Cloud di Milano. 12 grandi nomi della musica italiana saranno i protagonisti del programma, esibendosi con un brano del loro repertorio e una nuova hit in anteprima. Il programma sembra molto simile, sia per il format che per lo sponsor e il titolo, a quello che Amadeus conduceva su Rai 1 Arena Suzuki. Tuttavia, questa volta, il punto forte non sarà il revival, ma l'importanza degli ospiti che parteciperanno. Secondo quanto riportato da Dagospia, essendo Amadeus anche il direttore artistico, è possibile che sul palco ci siano anche altri conduttori, proprio come accadeva a Sanremo. Tuttavia, al momento, non si hanno ulteri dettagli.